Sabato 2 giugno a Pordenone, le celebrazioni della Festa della Repubblica sono cominciate alle 9.30, davanti al monumento e caduti in piazzale Lero dei Mille, dove erano schierati un picchetto d'onore interforze i rappresentanti delle associazioni combattentistiche ed arma, autorità civili, militari e religiose. È il mio secondo anno del 2 giugno, Festa della Repubblica. Certo, un anno di distanza di un 2 giugno molto particolare, erano i 150 anni, un grande clima di partecipazione, ci troviamo un po' diversi dopo un anno, ma forse proprio per questo, vedendo anche le polemiche che quest'anno hanno accompagnato questa manifestazione, io credo che è nostro dovere esserci, perché mai come adesso la necessità di dimostrare la saldezza delle istituzioni, la saldezza alla fine proprio della nostra Repubblica, del nostro Paese, è qualcosa che bisogna trasmettere. Senza di questo sarà difficile affrontare e continuare ad affrontare i tempi duri che abbiamo davanti. Quindi l'invito a tutti noi è di partecipare, di crederci, di abbandonare queste polemiche sterili e invece di unirci a festeggiare una data così importante e simbolica per tutti noi. Dopo il tradizionale alza bandiera e gli onori ai caduti, il corteo si è mosso in direzione della loggia municipale, dove la filarmonica ha eseguito l'Inno d'Italia. La fase finale delle celebrazioni si è svolta nei padiglioni dell'entefiera, che ospitavano una mostra di mezzi delle forze armate, di polizia e vigili del fuoco, uniformi attuali ed epoca e documenti storici. Qui, dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e l'intervento del Prefetto Pierfrancesco Galante, sono state consegnate 24 onoreficenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.